ben ritrovati carissimi amici di fanta world è iniziato finalmente il 2021 e lo apriamo ovviamente con la prima rosa del 2021 lo spazio dedicato a voi abbonati che vi siete meritati l'analisi della vostra cosa al fanta calcio oggi parliamo della rosa di uno che è omonimo di un calciatore tra l'altro perché ci occupiamo di mirko valdifiori un saluto ovviamente a salvo ciao a tutti il buon vecchio valdifiori che ha fatto un paio di annate veramente particolari soprattutto a tempoli a tempoli c'è molto molto bene il regista e batteva anche i piazzati quindi grande grande giocatore in quell'anno allora caro mirko prendi ovviamente carta e penna perché oggi ci occupiamo della tua rosa e ovviamente diciamo andremo a darti dei consigli qualora ci fosse dei consigli di qualcosa da aggiustare oppure a farti dei complimenti in base a come hai costruito la tua rosa prima di iniziare quindi il solito consiglio è quello di scaricare l'app one put molto utile per tenere traccia di tutto quello che succede nella nostra serie a e non solo ma anche a voci di mercato perché il mercato appunto ormai è praticamente nuovamente in auge e quindi scaricate l'app trovate ovviamente i link in descrizione sia per ios che per android quindi one football allora prima di passare la parola a sabo che passerei la segna tutti i nomi della squadra di mirko io vi ricordo un po in maniera molto breve le regole del fantacalcio di mirko allora un classic a otto partecipanti non utilizzano il modificatore di riflesso comunque in generale nessun modificatore ma utilizzano l'impattibilità quindi il più uno dei portieri allora lega detto a otto ok allora la rosa si chiama little john riferimento al film di animazione robin hood ovviamente penso che tutti ci siamo ok allora pacchetto portieri ha scelto di andare nella capitale perché ci sono mirante paolo lopez e stracoscia come vediamo queste scelte allora ovviamente col senno di poi esatto allora dal dal punto di vista mio quindi dal punto di vista della griglia anche direi perfetto ovviamente scelte perfette perché ovviamente roma e lazio una gioca fuori casa una gioca in casa sempre e quindi va benissimo quindi abbiamo detto i due della roma più stracoscia che però in questo momento diciamo però si gioca praticamente il posto con reina proprio per non dire che l'ha perso il posto ma possiamo anche dire che il secondo possiamo dire sì esatto praticamente sì quindi diciamo in questo in questo momento è come se mirko avesse ovviamente soltanto i portieri della roma cosa che ovviamente non è male ha in un fantacalcio a otto comunque affidarsi alla porta della roma perché la roma ha dimostrato comunque di essere una squadra in palla è anche abbastanza solida dal punto di vista difensivo quindi qualche più uno qualche clean sheet ovviamente si può lo potrebbe portare ovviamente nelle partite ad hoc però con stracoscia io sinceramente penserei ad uno scambio perché per esempio si potrebbe pensare di dare stracoscia chi ha reina che magari appunto vuole il secondo per sicurezza e prendere un portiere anche magari un portiere di medio livello da alternare ai due della roma ma niente di più ovviamente i due della roma restano i tuoi top sì alla fine l'unica operazione possibile è questa scambiare stracoscia chiaramente però io se ti danno ad esempio portiere a livello di prove dell così non me lo prenderei in questo caso terrei stracoscia e farei diciamo un dispetto a chi ha reina in questo senso assolutamente quindi diciamo che l'obiettivo è quello di far sborsare quanto più possibile chi ha reina esatto devi devi comunque guadagnarci da questo scambio perché stracoscia puoi sempre giocarti il fatto che il portiere è la lazio ed è vero alla fine assolutamente allora passiamo alla difesa dove solitamente non mi esalto tanto però stavolta mi esalto perché mi piace nonostante non c'è il modificatore questa è una cosa che purtroppo va svantaggio suo perché meriterebbe il modificatore perché abbiamo bremer criscito faraoni ghiglione akimi letizia spinazzola pezzella e yoshida è un vero è un peccato che non ci sia il modificatore ha detto bene però comunque va sempre bene avere dei difensori diciamo che quattro infatti lui avrebbe tranquillamente da schierare sempre tra l'altro sempre spinazzola e chimiche sono i super top poi pezzella e cricito che comunque sono dei semi top e faraoni quindi tanti nomi di buon livello e poi ci sono anche dei nomi tra virgolette low cost come ad esempio letizia che basta che siano tutelari e possono garantire delle buone prestazioni beh letizia adesso più che un titolare low cost sta nient'altro qualcosa di più secondo me perché porta buonissime prestazioni fantamedia alta insomma letizia è uno che si gioca il posto in questa difesa a patto che comunque ci sono dei problemi perché spinazzola che mi rimette sempre poche parole assoluta sì la difesa è costruita molto molto bene forse penserei addirittura indebolirmela se il centrocampo non è un granché perché senza modificatore però il problema è che il senza modificatore vale per tutti così vedere chi vorrebbe dei difensori comunque andiamo a vedere il centrocampo vediamo il centrocampo cassieco ericsson fares ernani locatelli marine pasalic luisa alberto sale makers e vero e tu a quanti sono 1 2 3 4 si hanno hanno la regola di un giocatore in più diciamo per il fatto del covid c'è la regola in più per reparto ok perfetto allora per quanto riguarda il centrocampo ovviamente spiccano alberto e vero e tu cioè tu mentre leggevi io stavo un po' per storcere il naso poi hai hai detto luisa alberto e vero diciamo che ci siamo sistemati un po' esatto ci siamo sistemati abbastanza perché ovviamente rappresentano ovviamente i due primissimi slot tra l'altro anche qui grigliabilissimi anche centrocampisti perché ovviamente uno della roma della lazio e tra l'altro vero e tu rigorista luisa alberto ovviamente diciamo uomo chiave della lazio quindi loro due sicuramente vanno schierati sempre quindi sono i migliori per l'istacco in questo centrocampo poi ho sentito locatelli ruiz che comunque sono giocatori che il loro lo fanno il problema è che non hanno tante tanti bonus che sono nelle corde e poi la coppia milanista ho sentito se non sbaglio castiglieco con con se le makers si che va bene perché sono praticamente loro due che si giocano il posto sulla destra nella batteria di tre quartisti e poi ericsson che però ovviamente in questo momento è da smicolare diciamo per forza di cose c'è poco da fare c'è poco da commentare christian ericsson e poi ovviamente in attesa direi anche nel del ritorno a pieno regime di pasavic che comunque potrebbe essere tranquillamente il terzo in questo centrocampo si bisogna vedere con l'attacco cosa possiamo fare vediamo in generale perché è un centrocampo che ovviamente oltre avere tu e luisa alberto potrebbe avere qualcosa se non si può fare con la difesa perché magari nessuno vuole allora in attacco invece ci sono berardi carles perez cornelius gecko iago falche ibra imovic calinic nestoroschi e un ass quindi direi che abbiamo ibra e ibra e gecko che spiccano più tanti giocatori diciamo a parte berardi che è chiaramente un giocatore importante però tanti giocatori così così si ebbe però come hai detto bene ibra e gecko e berardi comunque vanno a comporre un tridente di lusso sì e quindi questi almeno ce li ha ecco da schierare praticamente sempre l'unica pecca appunto però sono tutti gli altri attaccanti non sempre possono garantire il posto ecco quindi andare a prendere a rischiare qualcuno lì in attacco è pure vischioso sono giocatori che magari a volte rischiano anche il senza voto molti di quelli con estoroschi quindi sono giocatori di ago falche per esempio carles per carles perez per esempio senza avere pedro non è granché quindi in questo caso forse solo cornelius è il quarto che mi viene in mente che può essere comunque un titolare oltre ovviamente il tridente titolare quindi sicuramente un attacco da migliorare e forse non so se dire più del centrocampo ma in generale direi che purtroppo il sacrificio va fatto in difesa cioè io non so se voi siete d'accordo con me o quella diversa lì io purtroppo andrei a prendere uno tra akimi e spinazzola e lo andrei a sacrificare per una pecca o anche un centrocampista o per un centrocampista si si spinazzola e spinazzola è quello scambiabile perché non è akimi ma è anche quello che ha tanto appello in difesa esatto quindi è lui il sacrificabile della difesa per si dipende che esigenze hai e chi ti propongono anche esatto quindi bisogna praticamente diciamo il consiglio che diamo a mirco è quello di mettere sul piatto spinazzola e vedere ed ascoltare le offerte che sia per un centrocampista che sia per un attaccante e poi vedere ovviamente quello che che può uscirne fuori per andare a migliorare comunque i due reparti che sono fondamentali perché forse lui ha puntato in effetti un po troppo sulla difesa e non essendoci il modificatore lì che bisogna andare a sacrificare qualcuno certo un attaccante non sarebbe male da avere perché appunto a parte il tridente poi rischia veramente spesso il senza voto quindi un attaccantino ci può stare però il centrocampista anche da terzo slot possibile non sarebbe neanche male se vogliamo completare il tutto esatto quindi bisogna vedere esatto oppure un attaccante da alternare nel suo tridente oppure appunto un centrocampista da mettere insieme a lui salverto vero e tu e poi un altro perché comunque gli altri centrocampisti che alla fine giocano sì sì quindi comunque i nomi ce li ha mentre in attacco rischia per molti nomi senza voto molto spesso io andrei a migliorare comunque una rosa con molti giocatori perché in attacco ne ha 3 4 5 6 7 9 9 attaccanti che hanno degli slot liberi qualcosa del genere eh ma un fin troppo forse sì sì c'è tanta ci sono tanti tanti nomi per la classica ora esattamente allora che dire caro milco noi abbiamo ovviamente analizzato la rosa speriamo che questo video sia stato utile perché ovviamente l'obiettivo di tutti è quello di arrivare più in alto possibile in classifica una migliore alla rosa e quindi sì è questo il consiglio quello di andare a sacrificare ai nomi spinazzola che comunque sta facendo benissimo ma non essendoci il modificatore diciamo che lo fai forse più a cuore leggero per rendere a migliorare il tuo attacco quindi ovviamente sul gruppo telegram scrivici perché se vai ovviamente a proporre qualcosa per spinazzola noi saremo lì a dirvi ovviamente se va bene o non va bene perché se va male te lo tieni ovviamente esatto ovviamente sì non non spendiamo i giorni no non si deve spendere io ringrazio ovviamente saluto e Claudio per l'analisi e come ovviamente ringrazio anche Mirko e lo saluto e come sempre un saluto da Fanta World